Ciao a tutti e ben ritrovati dal vostro Andrink, non ho due in questo nuovo video spacchettamento dunque prima di iniziare so che la videocamera della facecam sta messa malissimo so di stare messo malissimo anch'io, a parte quello l'unica cosa che sta messa bene forse è il microfono che anche se entra nell'inquadratura non fa niente, non è quello l'importante purtroppo sono costretto a registrare così perché se no da seduto sbatto contro i treppiedi perché è enorme, ho un treppiedi enorme e quindi di quelli vecchi proprio di ferro potenti e pesante oltretutto quindi non posso proprio stare a registrare in certe condizioni questo è l'unico modo per non sbattere ogni volta contro i treppiedi con le gambe e quindi rovinare la registrazione, rovinare comunque sia, in questo video aprirò questo pacchetto che state vedendo ovvero il set Charizard EX anche si dice sia EX che GX, non come ho detto io GX negli scorsi video di Pokémon per il box di Pokémon sole e luna oltre a questo box ne ho un altro che sarebbe il box, o meglio il set di Charizard sempre però per il ventennale di Pokémon rosso, blu e verde dunque inoltre in questo pack è la prima volta che apro, che trovo, che ho in mano una carta a jungle la primissima volta, ma andiamo a vedere le carte di questo set dal prossimo video cercherò di stare un pochino più attento cercherò di trovare un'inquadrazione migliore per la videocamera e per quel resto dunque apriamo un attimo questo pack, non si apre senza romperlo perché vorrei conservarlo l'ho rotto il meno possibile inoltre per chi è la prima volta che passa dal mio canale deve sapere che Charizard è il mio Pokémon preferito da sempre ecco perché ho scelto questi pack e non altri allora andiamo un po' a vedere cosa ci regala questo pack oltre ovviamente alla carta EX standard, tra virgolette, chiamolo standard dovrei, ecco, ci siamo ok, Charizard EX, questo è fantastico dunque sì, so che la qualità della videocamera che sto usando è dubbia qualità molto dubbia, però c'è allora, questo Charizard è fighissimo dunque ha Attizzatoio che sarebbe lanciare una morte a saccia testa e cercare il tuo mazzo fino a tre carte di energia base assegnate a questo Pokémon figa poi mischia le carte e il tuo mazzo mi sembra di aver usato, quando giocavo ancora con le carte dei Pokémon giocavo a livelli alti un'energia simile tipo era un potere Pokémon simile fuocobomba, vabbè, fuocobomba spacca i culi come sempre molto bella, ma io vorrei passare ora alla carta Jumbo di Charizard quanto da fastidio la luce dietro, lo so allora intanto i pack che ok, questi mo li apriamo in un attimo ma la carta Jumbo, oh mio Dio no, fantastica oh, la carta, stranamente la carta Jumbo ah, ecco, la legge bene perché ho fatto lo zoom e ho cercato di focussarla da lontano quindi, insomma, prima stavo cercando di focussare bene quindi più è grande, più prende meglio io questa videocamera ce l'ho da quattro anni ma non ho mai capito come funziona sinceramente vabbè, Charizard EX, insomma, lo vediamo qui nella sua versione Jumbo e questo lo attendo subito dietro al muro dovrei trovare un posto per me poi è vecchiotta come set 2014, acchio ok perfetto, molto bene andiamo ad aprire i pacchetti ora iniziamo con questo qua dove c'è Raichu sono tutti quanti i pacchetti di evoluzioni me ne accorgo solo ora a dire vero non non l'ho ordinato per i pacchetti di evoluzioni perché chi ha visto un certo video sa che io amo i pacchetti di evoluzioni per ovvie ragioni purtroppo non l'ho ordinato per questo giusto per farvelo sapere ah, insomma, in parte che devo imparare ancora ok, Kakuna oh, Ninetales bene bello cacchio ma io c'ho sempre sto dubbio da quando ho iniziato a collezionare le carte dei Pokemon più che altro questi pacchetti allora a parte il fatto che ho trovato Mewtwo in un pack opening scorso del set evoluzioni Mewtwo non era brillante non era holo io ce l'ho originale ultra però mi sembra che fosse se non sbaglio e qui non è ultra qui non è proprio brillante Charizard aveva fuoco aveva turbo fuoco che toglieva 200 e non lo toglieva non mi ricordo se togli di più in questo set o nel primo set base non mi ricordo in quale dei due ma uno dei due togli di più non mi ricordo bene di preciso ma hanno cambiato un bel po' di cose comunque sia no, va bene mi piace appunto Ninetales molto bene mi sta benissimo Ninetales molto bene prendiamo quest'altro sempre con il trick qui ci sarà sempre una carta che vorrò trovare quando quando apro questi pacchetti vorrei anche cercare di stai nascito far faccio ok vorrei anche cercare di aprirli come le aprono tutti quanti gli altri spacchettatori tra virgolette ovvero loro non so come fanno a mettersi bene seduti tranquilli forse sono stranoioi che è probabile però loro le aprono così praticamente le fanno andare in questa posizione io non ci riesco perché sono impedito proviamoci un po' vado molto veloce perché sono carte che comunque si ho già trovato ecco Mewtwo Mewtwo a parte che c'ha più punti salute perché c'ho anche quella originale ma non è holo non è ultra non è brillante non è nulla non è nulla non è nulla cioè non è non ti dà neanche la soddisfazione di trovarla neanche la soddisfazione ti dà perché non brilla invece quando eri più piccoletto che c'era parte che probabilmente l'hanno fatto perché diciamo che in questi pack ci sono oltre a tantissime fuori serie ci sono anche carte nuove hanno aggiunto per perché sono brillanti vabbè però così io pure sono impedito porca miseria oh consiglio del professor Ock e un altro Ninthase ma dai ma un altro Ninthase non poteva esserci in mezzo adorato Charizard che poi Charizard io ce l'avrei comunque sia io ce l'avrei Charizard ma inglese e della seconda ristampa quindi neanche brillante vabbè comunque sia questo era il video per lo spacchettamento diciamo che neanche mi aspettavo di trovare appunto XY evoluzioni però per i set di Charizard EX cioè questa questa è l'apoteosi io questa carta gigante jumbo è stupenda però dai sono contento di aver trovato almeno il consiglio del professor Ock almeno almeno quella e due Ninthase che però non me ne faccio nulla mi bastava anche un Ninthase mio tool l'ho già ritrovato questa è la seconda doppione diciamo Ninthase è bello è bello sinceramente non mi aspettavo di trovare Ninthase addirittura due è una carta davvero rara Ninthase ma a quanto pare non per me ti vuole fare a cambio con un Charizard set base magari prima edizione costa tanto io non ho soldi per comprare su ebay quindi io vi ringrazio per aver seguito anche questo video spero vi sia piaciuto nella descrizione trovate i link alla pagina di facebook i link alla pagina di twitter se non siete ancora iscritti al canale lo ripeto iscrivetevi tanto non costa nulla e come sempre ci vediamo in un prossimo video bye bye a presto in un prossimo video a presto